Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi, strumenti e categorizzazione del rischio per migliorare l'efficacia dei controlli ambientali. Oggi affronteremo le esperienze regionali, le esperienze in realtà di tre regioni, il Friuli Venezia Giulia, la Campania e l'Emilia Romagna. Il webinar di oggi è organizzato, si inserisce nel programma che è un programma formativo e informativo al quale molti di voi hanno già preso parte e è organizzato nell'ambito del progetto Pong Governance. Questo progetto è il progetto Delivery Unit Nazionale, Formez lo organizza sul mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il webinar di oggi è il primo di due webinar che siamo davvero molto felici e orgogliosi di organizzare perché è un progetto davvero molto importante e un progetto molto importante su una tematica che dire sensibile e dire poco. Quindi in quest'ambito l'idea di poter semplificare è veramente, diciamo che è un progetto davvero importante. I relatori di oggi che succederanno nelle presentazioni sono tecnici impegnati a livello regionale e a livello centrale in questo progetto e su queste tematiche. Io passerò a loro la parola di volta in volta, sapete come sempre che potete scrivere in chat e lasciare le vostre domande, le vostre osservazioni. A chiusura del webinar ci sarà uno spazio riservato alle domande. Le domande che dovessero rimanere non risposte per motivi di tempo, come sempre verranno poi, quelle verranno date risposte in un secondo momento e vi verranno comunque data comunicazione. Ora io direi che possiamo avviare perché è il momento da avere i lavori e passo la parola, invito il dottor Amiconi e la dottoressa Ristic ad accendere la webcam e il microfono, così da poter passare loro la parola. Vedo il dottor Amiconi, buongiorno. 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 La dottoressa Ristic. Buongiorno. Avrete anche il vostro documento. Io resto in back, quindi per qualsiasi problema tecnico scrivete in chat e cercheremo di aiutarvi. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro webinar. Voglio ringraziare il Formez Prima per il suo continuo supporto al nostro progetto e per la serie di webinar che ha organizzato quest'anno con noi. Allora, oggi parleremo come gli strumenti di categorizzazione del rischio possono garantire maggiore solidarietà alle decisioni e i relatori siamo io e il mio stimato collega dottore Franco Amignoni. Allora, questo progetto è sviluppato dal team di OX e il progetto è finanziato dalla Commissione Europea e Digireform. Il titolo del progetto è RAG2, allora si occupa di riforma di amministrazione pubblica. Il nostro team leader è Florentine Blanc, dottore Florentine Blanc, che ha una vasta esperienza nella riforma dell'administrazione e nelle ispezioni in oltre 40 paesi in tutto il mondo. Responsabile della gestione del progetto è la dottoressa Margareta Escobar e poi noi abbiamo i nostri responsabili per le diverse regioni e questi sono veramente gli esperti come avvocati, esperti di pubblica amministrazione, economisti, già esperti di riforma dell'administrazione in Italia come dottoressa Blerta Guzzina, Carola Bertone, Livia Lorenzoni, Luca Megale, Paola Coletti e Flavia Giannini e Alberto Morales. Ci sono ancora le persone che si occupano di problemi transversali e che condiviscono la sua conoscenza transversale su tutte le regioni come il nostro esperto per IT e data analisi, dottore Tiziano Lattisi e Hamsini Shankar. Io mi chiamo Gordana Ristic, sono un medico e responsabile per la sicurezza alimentare e in collaborazione con il dottore Franco Amignoni per la sicurezza ambientale attraverso tutti i regioni che partecipano nel nostro progetto. Allora, quali sono i obiettivi del progetto RAC? Migliorare il sistema di controllo sulla base delle nostre esperienze in molti paesi e su dei principi dell'OX e del toolkit OX come una guida. Noi introduciamo il metodo basato sul rischio nelle ispezioni. Analizziamo e miglioriamo il coordinamento per avere meno sovrapposizioni, duplicazioni, approcci oppositi, mute che non stimolano la complianza, eccetera. E ancora miglioriamo comunicazione e informazione attraverso l'uso di strumenti IT per ottenere un ultimo oggettivo e questo ultimo oggettivo è di aumentare l'efficacità e l'efficienza nei processi ispettivi in Italia e di rilanciare la competitività delle imprese, la crescita economica e gli investimenti. Allora, cosa è l'approccio basato sul rischio? Questo approccio aiuta a identificare le priorità da eventi più rischiosi che devono essere investigati con urgenza e sul campo ad eventi che possono essere investigati in seguito e magari con un approccio alternativo come per IT o come per telefono o mandare le foto e altri. Allora non è sempre necessaria la presenza degli ispettori sul campo. Ciò riduce l'onere dell'ispezione per le imprese e aiuta le agenzie ispettive a utilizzare meglio le sue risorse. Quali sono i territori coinvolti nel nostro progetto RAC nell'ambito della sicurezza dell'ambiente? Allora noi abbiamo cominciato con Trentino nel 2019 e poi le altre regioni hanno aderito come Emilia Romagna, Lombardia, Campania e Friuli, Venezia Giulia. Allora adesso lavoriamo in cinque regioni e lavorando con diverse regioni il progetto benefica degli esperti regionali, la loro conoscenze, la loro particolari esperienze e mentre le regioni traggono vantaggio dalla condivisione di nostre esperienze e strumenti basati sul rischio. Allora come ho detto prima per la sicurezza ambientale stiamo supportando cinque regioni e aiutandole a creare strumenti basati sul rischio e ad analizzare i dati. Allora nel Trentino, Lombardia, siamo occupati nell'analisi dei dati, ma in Emilia Romagna, Campania e Friuli, Venezia Giulia, con loro ufficiali, stiamo lavorando nel diversi strumenti basati sul rischio come classificazione delle imprese in base al rischio oppure revisione delle checklist oppure utilizziamo gli strumenti già sviluppati in Italia e già utilizzati in Italia per migliorare la comunicazione tra diverse agenzie e poi per ottenere le database dell'inspezione. Allora passo adesso la parola al dottore Amignoni per illustrare nel dettaglio gli strumenti su cui sta lavorando. Buongiorno a tutti, si è parlato quindi di categorizzazione del rischio e dei territori con i quali si sta lavorando in partnership già da alcuni anni. Qui vedete la cassetta degli attrezzi del progetto RAC2 che stiamo utilizzando nelle varie realtà territoriali. Si va dalla classificazione delle imprese che è un tema specifico che sta affrontando ad esempio ARPA Emilia Romagna di cui ci parlerà la dottoressa Marconi. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando su checklist, su misura per i vari territori che devono essere da un lato standardizzati ma dall'altro essere anche calati nelle realtà dei singoli territori delle singole regioni e affiancati da delle scoreboard, da dei punteggi che possano poi arrivare alla prefigurazione, alla profilazione del rischio. C'è in corso la facilitazione della creazione di tavoli di progettazione interregionali, ad esempio proprio sulla classificazione delle imprese e naturalmente le best practices internazionali di OXI possono facilitare la condivisione di queste soluzioni possibili per la semplificazione. Stiamo lavorando anche su elaborazione di linee guida e su tematiche che in realtà verranno affrontate nella seconda parte di questo miniciclo di webinar come ad esempio nel caso dei data science che sarà affrontato più specificamente da nostro collega Tiziano Lattisi nel webinar del 2 dicembre. Poi ci sono temi di reingegnerizzazione di processo, di formazione, ad esempio la formazione è legata alla creazione di un simulatore di non conformità per finalizzato a uniformare l'approccio degli ispettori nel rispetto naturalmente delle loro esperienze specifiche affinché ci sia un po' meno soggettività e un po' più oggettività nell'affrontare le ispezioni. Da questo punto di vista il nostro collega Janik Czeskia ne parlerà più diffusamente il 2 dicembre oltre a manuali naturalmente di buone pratiche. Tutto questo ci porta verso un'evoluzione della gestione integrata del rischio che dovrebbe garantire migliore focalizzazione, una identificazione dei rischi e quindi il follow up basato sui dati. Tutto questo dovrà favorire un minor peso amministrativo sulle imprese e la trasparenza di requisiti e processi decisionali unitamente a una maggiore conformità conseguente alla qualità ed efficacia delle ispezioni raggiunte. La modellazione del rischio ha varie sfaccettature, si va dall'identificazione, diciamo dalla carta di identità dell'azienda, alla valutazione dell'esposizione al rischio nei suoi vari aspetti, alla caratterizzazione e alla gestione vera e propria, ma da questo punto di vista un'infografica può essere più esauriente. Voi vedete sopra la matrice del rischio basata sulle caratteristiche strutturali delle imprese, quindi diciamo le caratteristiche intrinseche, la carta di identità che è soggetta a una pesatura dei criteri di rischio cosiddetti statici. Sulla sinistra vedete invece le informazioni raccolte durante le ispezioni tramite le checklist tecniche che sono a loro volta pesate con criteri di rischio dinamici e per completare il quadro la terza dimensione è quella in basso, il profilo di rischio basato sulla storia dell'impresa e le tre dimensioni forniscono il profilo integrato del rischio e quindi l'output di un punteggio relativo a questo rischio. Gli aspetti che noi abbiamo verificato nel corso dei mesi del progetto ci hanno portato all'esperienza ad esempio sul fatto che l'incidenza del punteggio statico delle imprese dovrebbe essere meno rilevante nell'attribuzione delle scoreboard e dei punteggi rispetto al punteggio dinamico, quindi alle ispezioni fattuali nelle facilities e nelle imprese, così come si è verificata la necessità di una significativa divaricazione nei punteggi delle checklist, ovvero rischio lieve, rischio medio e rischio alto devono essere sufficientemente distanziati tra loro per garantire che le soglie di rischio che vedete invece sulla destra siano effettivamente efficaci nel creare una differenziazione nei profili di rischio di tutte le imprese coinvolte e quindi una programmazione più efficace. Questo è un esempio di checklist tecnica di quelle su cui si è lavorato in questi mesi, questo riguarda in particolare le acque in fognatura ma ne parlerà più in dettaglio Paolo Plossi che seguirà nelle presentazioni. Questa invece è la matrice di rischio basata sulle caratteristiche strutturali delle imprese e qui vedete da un lato la divisione in capitoli che risulta molto importante ai fini di una organizzazione più efficiente, i tre livelli di rischio che sono utilizzati in questo caso rischio basso, medio e elevato così come la pesatura che porta poi a un punteggio finale della matrice. Questo è un esempio molto banale degli esiti finali del modello con la valutazione di rischio complessiva alta, media o bassa ma è interessante a mio avviso soffermarmi un attimo su quelle che sono le sfide principali relative alle imprese soggette ad agua. C'è sicuramente, si è riscontrata nel tempo, una carenza di dati per una completezza delle analisi, una carenza di standardizzazione anche della classificazione delle imprese, tema sul quale appunto sta lavorando Arpa Emilia Romagna. Ci sono delle sfide dal punto di vista del coordinamento perché il flusso informativo e il livello di cooperazione tra agenzie, tra livelli di governo, quindi sia a livello verticale che orizzontale e all'interno dei singoli governi regionali, devono trovare ancora in qualche caso un assetto che garantisca le performance ottimali. Le regioni spesso non dispongono da questo punto di vista di consolidate metodologie di classificazione del rischio e c'è un tema di gestione delle risorse da perfezionare. Un paio di esempi, molte risorse e progettualità sono attualmente dedicate in molti casi alle aia che peraltro sono frequentemente ben organizzate, relativamente meno risorse e progettualità almeno fino ad oggi sono state invece dedicate alle agua che presentano invece sovente problemi specifici e anche di sistema. C'è poi un tema di scarsità di bilanciamento anche tra i territori che rende un pochino più arduo arrivare a una convergenza di metodologie. In alcune regioni il rapporto tra la pianificazione e le segnalazioni è 80-20 in altre 20-80 quindi capite bene che laddove ci sono 80 casi di ispezioni su pianificazione e 20 su segnalazioni c'è la possibilità di una programmazione più efficace laddove invece il rapporto è 20-80 l'attività è più reattiva e quindi è più difficile fare una programmazione. Il training degli ispettori deve essere poi in grado di garantire un approccio più oggettivo e allineato alle situazioni riscontrate sul campo e da questo punto di vista il simulatore di non conformità di cui si parlerà più diffusamente il 2 di dicembre è molto importante. Per concludere il percorso RAC2 sin qui a partire dal 2021 si è basato sulla condivisione delle metodologie con i territori e la valorizzazione delle vocazioni e delle urgenze anche di ciascuno in corso quest'anno la messa appunto di perfezionamento di strumenti di categorizzazione del rischio conclusione prevista giugno 2023 ma la storia continua nel senso che l'auspicio è quello di continuare sia con gli attuali partner sia possibilmente anche di ampliare il raggio di azione al fine di portare anche all'attenzione del governo centrale tutte le soluzioni e i risultati che via via andiamo ottenendo. Grazie dell'attenzione. Grazie a voi, grazie a voi per la presentazione. Chiedo al dottor Plossi di accendere webcam e microfono. Ecco perfettamente, lo vediamo. Bene. Buongiorno. Ecco le sue slide. Grazie e saluti a tutti. Sono sempre qui. Bene, cominciamo. Allora, avanti, eccoci qua. Questo è il titolo, quindi, revisione delle linee guida e delle checklist del settore controlli nella regione Friuli Venezia Giulia perché si fa controllo per molti motivi, per prassi amministrativa, repressione dei reati, eccetera, noi suggeriamo come motivazione di tenere appena in presente due elementi che sono, primo, la chiusura del ciclo regolatore come anche il sistema nazionale di protezione ambientale propone, il secondo punto che invece è il reale motivo per cui si opera in questo settore è la gestione del rischio ambientale, perché ricordiamoci che il bene ambiente non è un bene disponibile, non è un bene artificiale. Altra cosa importante, tra le pratiche che vengono messe in atto quando si fa sorveglianza, ci sono tante azioni che vengono normalmente svolte, oltre al discorso dell'azione sul campo, dell'operatività, dell'intervento sull'autorizzato e anche un'intensa attività di continua richiesta di dati da parte degli autorizzati verso la pubblica amministrazione, è presente che in realtà a sorvegliare cosa significa? Significa ottenere informazioni sulla qualità dell'ambiente e quindi avere una misura del rischio in relazione alla qualità e ricevere segnali del sistema. Quello che interessa è vedere come il sistema funziona, qual è la pressione che il sistema economico eserce sul bene ambientale. In questo senso è fondamentale che l'attività di sorveglianza sia legata anche alla costruzione di un rapporto efficace e positivo con i soggetti che sono autorizzati con gli stakeholder. E' molto più semplice far capire agli altri come si si deve comportare correttamente che andare a cercare il reatto. Il processo di sorveglianza viene poi organizzato nel senso che è necessario, secondo noi, una transizione da quella che è la concezione della sorveglianza come procedimento amministrativo e quindi sequenza di atti amministrativi passiamo verso una lettura dell'attività di sorveglianza concepita come processo e quindi come una sequenza di azioni che portano da una esigenza alla formulazione di un prodotto che è l'informazione, fondamentalmente è quello che io voglio tenere quando faccio il controllo stesso. In questo senso è importante che si vada a lavorare con alcune tecniche che sono tipiche della business process re-engineering e in particolare l'utilizzo di un strumento di BPMN che è un strumento di analisi del processo fondamentalmente che consente di passare alla sua digitalizzazione, alla re-engineerizzazione del processo e alla sua semplificazione perché il nostro obiettivo è fondamentalmente questo. Quindi il ciclo regolatore deve essere un concetto che viene sostituito al normale approccio che viene utilizzato nella prossima amministrativa normalmente la prossima amministrativa è un'attività che è lineare, cioè qualcuno chiede un permesso, un'attività di svolgere qualcosa c'è un istruttore d'ufficio, si produce un'autorizzazione, una concessione, dopodiché si va a verificare e si dà la sanzione questo tipo di approccio secondo noi va un momentino superato noi aderiamo a quello che il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale propone per il controllo sugli impianti e l'autorizzazione integrata e quindi è una logica che deriva dal JRC dell'Unione Europea stessa che è la produzione tecnica dell'Unione Europea e quindi si vada invece alla chiusura del ciclo regolatore il ciclo regolatore si chiude quando c'è la pianificazione del settore l'azione amministrativa attua alla pianificazione del settore c'è una programmazione dei controlli c'è un'esecuzione c'è una correzione dell'azione amministrativa quindi c'è una retroazione, un feedback del risultato su quello che è l'azione stessa sia in termini di progettazione dell'azione, quindi dei piani del settore che è proprio anche come costruzione della prassi amministrativa stessa quindi usare i dati di controllo per retroagire sull'azione amministrativa stessa quindi si vanno a costruire delle linee guida le linee guida vengono costruite sulla base di quelli che sono gli schemi che il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ha definito per il controllo sugli impianti AIA cosa abbiamo fatto noi? abbiamo fatto e abbiamo costituito un gruppo di progettazione che è trasversale a tutti i settori della direzione ambiente che si occupano delle attività più varie e quindi stiamo lavorando per adattare quelle che sono le logiche di controllo degli impianti AIA sulla generalità dei casi per fare questo si va a cercare tra l'altro anche l'impiego di un software applicativo che sia al tempo stesso una gestione del dato e una gestione del processo e quindi noi cosa facciamo? facciamo una programmazione del rischio programmazione del controllo su base del rischio cerchiamo di adattare la logica dello strumento che è il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale che è un software che si chiama SSPC cioè Sistema Supporto della Pianificazione dei Controlli dopodiché si va a costruire un programma di controllo quando il programma di controllo segnala la necessità di controllare un caso oppure quando si riceve una segnalazione di un caso non pianificato e quindi di nuovo equilibrio tra il controllo pianificato e il controllo reattivo a quel punto lì il responsabile del settore attiva il controllo incaricando un referente viene costruita una scheda di preparazione del controllo dalla scheda di preparazione del controllo si produce la checklist si esegue il controllo si va alla compilazione del rapporto di ispezione ambientale rapporto di ispezione ambientale che poi va a popolare in termini di risultati quella che è la base informativa e quindi servirà il domani sia per indirizzare l'azione amministrativa successiva che può essere una revisione dell'autorizzazione un verbale di sanzione amministrativa o l'attivazione dell'azione penale sia andare a fare revisione di piani e programmi per andare a programmare l'attività citiamo sempre SSPC perché è un qualcosa che usiamo come strumento di base ma è tarato sugli impianti in autorizzazione integrata quindi non è immediatamente applicabile a tutta la generalità dei casi che abbiamo noi che vanno da una serie di attività che sono completamente diverse quindi i casi di cui noi disponiamo sono attività di tipo emissivo scarichi edici, emissioni, rifiuti oppure estrattivo cave e attività di questo genere oppure applicazione a casi progettuali cioè quando si va a realizzare un intervento si deve esaminare il risultato in questo caso qua è necessario oltre alla descrizione del caso quello che è il rischio statico incrociare con quello che sono le caratteristiche territoriali la sensibilità del territorio e abbinare a questo il livello di affidabilità del gestore e su base di questo il sistema ti costruisce un livello di criticità che è assegnato a un punteggio e si vanno a fare i graduatori e i calendari per l'impostazione del controllo quindi quando il controllo viene attivato si costruisce una scheda di preparazione la quale deve contenere le informazioni che servono ad impostare i controlli da svolgersi questa è una serie di tabelle che sono messe insieme che vanno da un'anagrafica a una descrizione del sito in termini sia qualitativi che quantitativi una individuazione del tipo di controllo che viene fatto le cose che in genere in termini generali devono essere controllate è importante una cosa e cioè che la gran parte di queste informazioni qua devono essere utilizzabili in forma il più possibile automatizzata da parte del sistema gestionale il data input dell'operatore in fase di preparazione deve essere assolutamente minimo perché? perché la scheda di importazione non è porta alla costruzione del checklist che è quella invece in cui il responsabile dell'ispezione dovrà andare a inserire diciamo la sua parte di intelligenza per così dire sulla base poi della checklist e degli esiti di controllo deve essere redatto il rapporto di ispezione ambientale anche qui utilizziamo in termini generali con adattamento chiaramente lo schema che propone il sistema nazionale di protezione ambientale per gli impianti AIA quindi che cosa sarà il rapporto di ispezione ambientale? è una sequenza che viene costruita mettendo la parte di descrizione del contesto che si cava dalla scheda di preparazione del controllo si mette poi la checklist compilata la valutazione del risultato con la definizione dell'esito del controllo stesso e la proposta di intervento il rapporto di ispezione ambientale è un documento importante perché va agli atti e va a popolare quindi quelli che sono dei controlli stessi in termini di gestione del dato ma è anche il documento che innesca le azioni successive che ripeto possono essere o un intervento di revisione sull'autorizzazione oppure una sanzione amministrativa oppure il vinesco dell'attività di reazione penale molto rapidamente anche perché in dieci minuti è estremamente difficile riuscire a descrivere il sistema che ci siamo inventati per gestire le liste di controllo se ci sono necessità magari poi si possono anche fare una fase di domande delle piccole dimostrazioni questo sistema qui da noi è articolato nel seguente modo si parte dalla scheda di preparazione del controllo la scheda di preparazione del controllo segnala alcune aree che sono le questioni di natura amministrativa le questioni di natura strutturale il funzionamento delle parti strutturali dell'impianto stesso oppure le caratteristiche di realizzazione del progetto a seconda di che tipo di sistema si va a esaminare il livello di manutenzione che è di efficacia quindi che queste sezioni di impianto sono in grado di esprimere e infine la parte gestionale che riguarda in particolare la tenuta di scrittura obbligatoria possono essere registi di rifiuti oppure quaderni di impianto oppure registi di manutenzione e cose del genere non so quanto bene si riesca a vedere ogni riga rappresenta un item cioè un elemento che deve essere verificato si va a costruire per ognuno di questi item si definisce a priori un punteggio diverso a seconda che sia un completo ottemperanza a quelli che sono i criteri predefiniti una completa non ottemperanza oppure un livello di ottemperanza intermedio quindi ci sono dei punteggi di rischio che sono crescenti a seconda della rilevanza di quel particolare item lì siamo andati a definire dei pesi e quindi si definisce che sono i punteggi pesati i punteggi pesati possono avere tre valori per ogni item quando l'ispettore va sul campo assegna uno di questi tre punteggi al singolo item dalla somma poi di tutti quanti i punteggi pesati che vengono rilevati sul campo c'è la costruzione di un punteggio totale il punteggio totale viene normalizzato a seconda di quello che è livello minimo di rischio o di massimo rischio una volta che il punteggio è normalizzato sono in grado di ottenere uno score un voto per quello specifico sopra il luogo lì su quello specifico impianto lì e di conseguenza posso costruire una lista di criticità degradatoria per gli impianti stessi e a seconda del tipo di impianto della sua complessità possiamo avere un numero di item estremamente variabili per esempio nel caso dei depuratori di acqua rete urbane di complessità notevole quindi piatti completi noi abbiamo in regione impianti di questo tipo che possono avere anche potenzialità dell'ordine di 150-180 mila abitanti equivalenti e viceversa abbiamo anche impiantini che hanno qualche centinaio di abitanti equivalenti di potenzialità quindi è estremamente variabile quella che è la scelta degli item possibili a seconda della complessità stessa dicevo ci può avere un numero di item da esaminare più o meno grande e di conseguenza con la normalizzazione riesco ad avere comunque uno score completo dicevo per gli impianti più complessi abbiamo una cinquantina di item ma si può andare anche ad avere un numero inferiore come già vi ho detto sarà in fase di preparazione del sopra luogo di impostazione del sopra luogo sarà il gruppo ispettivo che deciderà quali di questi elementi dovranno essere vigilati molto bene chiudiamo dicendo che se noi vogliamo perseguire nostri scopi che sono tutela dell'ambiente semplificazione dei controlli e quindi operare in modo sistematico riproducibile noi abbiamo deciso di basarci su un tavolino con tre gambe e le tre gambe sono la revisione delle linee guida la condivisione di programmi e di metodi di valutazione con tutte le altre autorità di controllo che sono presenti sul territorio e infine la cosa su cui più contiamo e su cui stiamo per partire è la creazione di un forum che ci rapporti agli stakeholder i stakeholder sono sia società autorizzati con le associazioni di categoria che la società civile che i gruppi professionali strutture formative per l'università eccetera ed infine anche gli enti locali e va beh questo è tutto quello che si doveva dire per il resto insomma ringrazio e grazie al dottor Plossi c'è una domanda che mi sembra legata al momento e la inviterei a leggerla sì assolutamente la domanda è Claudio delle femmine se nel calcolo si tiene conto in alcun punto della qualità dell'ambiente che riceve l'emissione allora assolutamente sì perché quando andiamo a assegnare il livello di rischio medio alto in questo caso qui questo è un punteggio che viene ovviamente soggettivamente inserito da parte degli ispettori sul momento ma tiene assolutamente conto della questo si lavora sugli effetti ecco qua per cui sì se c'è una criticità e la non conformità viene messa a livello alto assolutamente dopo di che comunque attenzione comunque alla fine del sistema che ha prodotto prodotto il dato il dato numerico del giudizio sintetico di criticità è comunque l'ispettore che deve valutare l'affidabilità di questo risultato qui oltretutto questi punteggi qua sono punteggi dati inizialmente in termini soggettivi dopo sono stati tarati in funzione di quelle che sono le esperienze raccolte e sono soggetti a variabilità chiaramente nel momento in cui io al 380esimo controllo che faccio vedo che quel dato punteggio lì non va più bene o che quel dato peso lì non è più adeguato va bene allora grazie mille dottor Flossi poi le osservazioni le vedremo poi in conclusione e la ringrazio per l'intervento invito la dottoressa Marconi ad accendere webcam e microfono così da poterle passare la parola poco più di 10 anni dalla incata in vigore del DPR 59 del 2013 il DPR che a dispetto della formulazione dell'articolo 23 del decreto legge 5 2012 che ne prevedeva l'istituzione cioè quella di una semplificazione credo che abbia come dire fin dall'inizio posto una serie di problematiche applicative alle quali ogni singola regione ha dato una risposta diversa a partire dalla dittotomia anche delle due autorità competenti che le riguardano cioè l'amministrazione provinciali e i comuni come regione campania noi abbiamo attivato fin da subito dei tavoli tematici locali per poi giungere anche col supporto del format alla redazione di un primo strumento che era una guida operativa approvata con DGR 168 nel 2016 con cui abbiamo affrontato i primi problemi applicativi dalla presentazione della domanda all'obbligatorietà dell'AUA alla modalità di presentazione appunto del modello unico regionale abbiamo approvato il modello unico regionale abbiamo dato passo passo in questa guida descritto le attività che i singoli soggetti i singoli stakeholders con questi soggetti ambientali competenti dovevano porre in essa successivamente proprio quest'anno all'inizio di gennaio dopo anche qui un lavoro concertato con le province con la città metropolitana di Napoli anche in questo caso con Forno e soprattutto con Surap che si è reso protagonista di questa iniziativa abbiamo ritenuto opportuno aggiornare la guida operativa guida operativa aggiornata che è stata poi approvata con una delibera all'inizio del 2000 abbiamo aggiornato i dati che potevano essere in relazione alle criticità principali che poi si ripercuotono anche sul sistema di controlli di cui oggi parliamo a partire dal talora dai ritardi con cui nonostante le province o la città metropolitana adottasse il provvedimento di Aua alcuni suap tardavano nel rilascio abbiamo introdotto in questo caso la previsione della diffida e del ricorso gerartico previsto dall'articolo 2,9 9 bis della legge 241 del 90 abbiamo affrontato una delle tematiche che stava più emergendo in campagna cioè quella purtroppo degli incendi di alcuni impianti talora anche non direttamente collegati nell'Aua ovvero casi di depositi funzionali all'attività principale dell'Aua ma obbligati in altro comune rendendo obbligatoria come dire la descrizione e l'individuazione delle singole autorizzazioni antincendie che queste attività di deposito avevano in relazione alla principale attività dell'Aua abbiamo considerato l'entrata in vigore del decreto legislativo 104 del 2017 in relazione al PAO per considerare quindi il rapporto tra Aua e PAO e come affrontarlo nella sede di conferenza unica del provenimento unico amministrativo regionale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 198 ma soprattutto questo è il tema principale abbiamo affrontato la parte più delicata di questo provvedimento autorizzativo ambientale cioè quello della vita dell'autorizzazione che è la stessa di PR59 del 2013 non norma e quindi con un'azione anche coraggiosa perché i limiti della sostenibilità costituzionale ricorderei che la materia è coperta dalla potenza legislativa esclusiva dello Stato noi abbiamo individuato le singole attività che devono essere poste in essere per in caso di inossermata delle prescrizioni quindi l'apporto tra soggetto ambientale competente amministrazione provinciale con autorità competente e SWOT la fase del rinnovo e la fase dei controlli anche qui noi come dire così come anche descritto dal collega prima del Fiori Valencia Giulia tendiamo ad immaginare un sistema che sia simile a quello ben collaudato che sta funzionando per quanto riguarda le AIA lì però abbiamo e questo è il tema odierno lì abbiamo però una copertura normativa il 152 prevede espressamente un piano dei controlli delle installazioni AIA che noi in Regione Campania abbiamo approvato abbiamo un piano annuale sul redatto sulla base dell'elaborazione anche per noi di un software che tiene conto di alcuni parametri importanti le condizioni ambientali di partenza le tipologie di attività che vengono ricomprese eventuali precedenti controlli che abbiano dato esito di criticità dunque è un modello già conlaudato qui il tema però è più complesso che mentre quanto riguardava alle AIA qui in Regione Campania noi siamo autorità competente il problema che si pone nel caso della Campania è che non avendo previsto un diverso riparto delle competenze rimangono in chiede le competenze dell'amministrazione provinciale e dei suoi mi dovrebbero immaginare dei piani con valenza provinciale da questo punto di vista sarebbe auspicabile un intervento del legislatore nazionale che facesse un po' più di chiarezza su questo aspetto lo stesso aspetto che abbiamo disciplinato nella nuova guida regionale è quello del sistema nazionatorio perché i soggetti ambientali competenti sono diversi e quindi diverso anche il rapporto e le attività che ne conseguono si immagini ad esempio sulle emissioni in atmosfera l'autorità competente i soggetti ambientali competenti alla Regione Campania ci attiva una comunicazione di non conformità su un punto di emissione oppure in relazione delle prescrizioni in questo caso il soggetto ambientale competente ne abbiamo disciplinato di provvedere a fare la diffida la comunica all'amministrazione provinciale e al SWOT competente laddove invece vi siano pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente quindi l'attività tipicamente del potere di ordinanza si concredizza anche con la sospensione o addirittura con la revoca del provvedimento autorizzativo in questo caso il soggetto ambientale competente lo comunica all'amministrazione provinciale che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca lo comunica al SWOT affinché poi adotti il provvedimento finale quindi come si vede un procedimento piuttosto elaborato e corposo a questo si aggiunge e consegue anche l'altro aspetto cioè quello più tipicamente sanzionatorio perché accanto al potere di ordinanza vi è anche l'attività sanzionatoria la dottrina la giurisprudenza che si è formata in questi anni perché lo ripeto il 59 non lo prevede e che si applichi nella normativa di settore quindi i soggetti ambientali competenti conservano questa competenza e la devono comunque come dire rendere coerente con le altre attività che sono previste si immagina ad esempio tornando ad esempio di un controllo che preveda una non conformità degli scarichi e una non conformità per le emissioni in atmosfera o una non conformità per i rumori avremo ad esempio in regione Campania una sanzione per emissioni atmosferiche il soggetto ambientale competente e la regione stessa per gli scarichi anaudamente dalla regione stessa per i rumori invece avremo il comune quindi un coacerbo di competenze piuttosto complesso per superare la tematica dei controlli noi stiamo immaginando anche in un precedente incontro che abbiamo avuto con i delegati dell'Ox la previsione di una piattaforma nella quale le singole province l'amministrazione provinciale e la città metropolitana di Napoli possano caricare tutte quante le aua che sono state rilasciate piattaforma che consenta di implementare i dati relativi agli autocontrolli delle aziende e fornire questo già un primo elemento di valutazione come riferiva prima il collega di Fiori Valenzia Giulia che con l'implementazione dei dati relativi ai controlli e in ragione di questo poter meglio alimentare il software che poi andremo a definire ed ad approvare per la realizzazione di un vero e proprio piano di controllo delle attività aua il tema che qui poi comunque subviene è quello della scarsità delle risorse noi abbiamo un'agenzia regionale campana che è l'ARPAC già fortemente impegnata per quanto riguarda i controlli delle aree e i controlli ordinari che svolge oltre a quelli che svolge per conto delle procure della Repubblica del territorio si apre uno scenario legato a dei risorse e su questo è necessario che anche il legislatore nazionale possa intervenire prevedendo delle risorse specifiche per le attività di controllo delle aua che sono certamente sensibilmente meno importanti rispetto alle aia ma sono numericamente molto importanti e talora sfuggono anche ad alcune attività di controllo specifico che sul territorio invece si rendono particolarmente esigenti grazie e buona giornata a tutti ringraziamo il dottor Barretta per la sua presentazione invito la dottoressa Marconi a provare a ricollegarsi così vediamo se abbiamo maggior fortuna di prima la vediamo e la sentiamo lei ci vede e ci sente ok vi vedo e vi sento e vedo anche le slide ci riproviamo speriamo sia una volta buona perfetto allora io resto sempre il feedback buon lavoro buongiorno allora la collaborazione di Alpa Emilia Romagna con OX è nata appunto dal dal fatto che l'agenzia di per sé aveva già in corso un progetto per definire tutta l'anagrafica delle attività che operano in regime di AUA abbiamo i dati soltanto dal 2016 in avanti un catastro delle pressioni ambientali autorizzate e quindi la necessità di definire un modello di valutazione del rischio che potesse essere utile nella supportare la programmazione delle ispezioni delle periodicità di ispezioni delle aziende in AUA le criticità che sono state riscontrate in questo progetto è appunto l'assenza di una categorizzazione definita in cui collocare le varie attività AUA la grande variabilità delle autorizzazioni delle aziende che operano in regime di AUA e l'assenza di un modello di valutazione del rischio che potesse essere diverso da quello utilizzato per le AIA quindi siamo partiti però comunque da alcuni punti base che sono l'applicazione appunto del modello SSPC alle installazioni AIA la conoscenza del territorio e delle aziende da un'analisi ragionata dei codici ATECO e da una normativa regionale e nazionale che categorizzava già un pochino le attività per quanto riguarda l'impatto delle emissioni in atmosfera come comunicazioni di carattere generale quindi per definire il rischio delle aziende in AUA abbiamo preso in considerazione tre elementi che sono il rischio agendale intrinseco che si suddivise in rischio potenziale e in rischio reale degli elementi di ponderazione che sono le buone pratiche gestionali la conduzione e la conformità e la vulnerabilità del territorio quindi dove è collocata l'azienda oggi ci soffermeremo su quello che è l'impatto potenziale che è appunto quello che abbiamo cercato di costruire anche con la collaborazione di Ocse l'impatto potenziale è un po' basato sempre sul modello delle AIA è un impatto da assegnare alle aziende in base all'attività che l'azienda svolge quindi in base a quello che potenzialmente potrebbe essere il suo impatto per fare questo siamo partiti da il primo problema era quello di cercare di creare appunto una categorizzazione delle attività per poter poi ragionare su di esse quindi per fare questo siamo partiti dall'elaborazione delle attività che erano ricomprese nell'articolo 272,2 della parte quinta del decreto legislativo 152 che sono quelle attività che sono ritenute a ridotto inquinamento atmosferico quindi da questa attività abbiamo aggiunto a questa attività quelle attività che rientravano nelle aie che non erano presenti in questo elenco e abbiamo cercato di attribuire a queste a questo elenco di attività un codice affine alle categorie PPC questo perché per le categorie PPC avevamo già un indice potenziale e quindi abbiamo cercato di assegnare questo codice affine per poter avere una base di partenza per assegnare questi codici di indice potenziale l'attribuzione del punteggio è ancora in corso di definizione è stata fatta una bozza che dovrà essere poi affinata anche con l'applicazione ad un gruppo ristretto di attività per vedere appunto come funziona questo è un esempio di associazioni quindi noi abbiamo fatto l'elenco di queste attività e abbiamo associato a queste attività un codice AIA affine per poter poi arrivare ad associare un punteggio attribuito all'SSPC il lavoro più importante dal nostro punto di vista è stata cercare di associare ad ogni attività un codice attivo questo perché noi quando poi dovremmo andare ad elaborare tutti i dati delle AUA dobbiamo partire da un dato che abbiamo disponibile per tutte le aziende e l'unico dato che avevamo disponibile per tutte le aziende che ci sembrava potesse essere utile allo scopo era appunto il codice ISTAT quindi attribuendo la categoria fine il punteggio attribuito alla categoria fine dall'SSPC l'attività e il codice attivo siamo riusciti ad arrivare a creare una griglia di impatto potenziale impatto potenziale a cui abbiamo attribuito un punteggio che va da 1 a 5 in base appunto alle potenziali criticità delle aziende e guardando poi questa tabella riassuntiva ci sembra che la cosa al momento possa funzionare bene perché appunto partiamo da un codice di 1 quindi un basso impatto ambientale per tutte quelle che sono le attività alimentari la produzione di calore ed energia delle caldaie sostanzialmente e i cogeneratori che vanno molto spesso a metano e gli allevamenti un codice un pochino più alto quindi un indice definiamolo medio per queste attività che sono la fabbricazione dei mobili la produzione di carta e cartone il materiale da costruzione terracotta tipo le ceramiche e delle lavorazioni meccaniche in generale per arrivare poi ad un indice di impatto medio alto per le attività tessile la produzione di prodotti farmaceutici la produzione di cemento calcio e gesso e lo smaltimento di carcassi animali che sono comunque delle attività che hanno un impatto che potrebbero avere un impatto importante sul territorio per arrivare ad un codice 4 al quale sono state associate le attività di fabbricazione di prodotti chimici articoli in gomme materie plastiche la fusione dei metalli le verniciature i trattamenti di rifiuto e le pulizie a secco delle lavanderie e un'ultima attività che risulterebbe essere dal punto di vista teorico quella più impattante che è la produzione di esplosivi e la produzione di gise d'acciaio questo lavoro ci permette appunto di attribuire un primo codice non è un lavoro che va affinato perché molto spesso il codice a teco ci sono anche molti codici a teche non ben specificati quindi una buona parte delle attività andranno comunque valutate singolarmente però noi abbiamo visto che con questo modello un 80% delle attività che abbiamo sul nostro database siamo riusciti ad applicare il codice quindi tutto sommato il sistema risulterebbe funzionante poi dopo vedremo se anche in altre realtà è possibile fare questa cosa il il lavoro come dicevo è all'inizio nel senso che abbiamo fatto questo primo elenco di attività che dovrà essere che sicuramente andrà implementato i codici di pericolosità cioè tra virgolette di impatto ambientale dovranno essere valutati per vedere se realmente sono dei codici che possono avere dei codici verosimili o se hanno bisogno di essere ritoccati e tutto questo lavoro anche per tutto il resto del modello di calcolo dell'indice di impatto delle aziende in Aua proseguirà anche con la collaborazione del servizio valutazione ambientale e promozione sviluppo sostenibile della regione Emilia Romagna grazie mille io ho finito la mia presentazione sono stata rapidissima rapidissima e chiarissima grazie mille ora è la mia webcam che non funziona ma non è un problema non è fondamentale chiedo alla dottoressa filazzola di prendere di accendere webcam e microfono così da poter avviare anche la sua presentazione ecco lei la vedo buongiorno a lei le condivido i suoi materiali eccoci qui vede le slide perfettamente spero va benissimo buona presentazione ok buongiorno sono Maria Teresa filazzola di Arpa Campania e insieme al gruppo di lavoro coordinato dall'ingegnere Mero la stiamo collaborando con l'Ocse sul progetto RAC2 e in particolare quello che vi presento è il il lavoro che stiamo svolgendo per cercare di individuare una metodologia di categorizzazione del rischio l'obiettivo che ci siamo posti appunto è stato quello di mettere a confronto e sviluppare delle metodiche su un'area ristretta infatti abbiamo cercato di sviluppare un progetto pilota nell'ambito di un comune che è il comune di Marcianisi andando a verificare quale poteva essere innanzitutto il numero di aziende del comune di Marcianisi con autorizzazione unica ambientale e poi andare ad applicare le diverse metodologie per la valutazione del rischio per l'analisi del rischio infatti sono state verificate una prima metodologia che poi illustrerò definita semplificata e poi la metodologia correntemente applicata per le aziende aia di cui hanno parlato i precedenti relatori che è l'SFPC ed infine un terzo step del lavoro è stato volto a verificare l'applicabilità nella nostra realtà delle checklist controlli che stanno sviluppando il filo di Venezia Giulia per quanto riguarda l'attività di censimento i database e le informazioni presenti nei database dell'agenzia sono state integrate con le informazioni pubblicate nell'albopretorio del comune di Marcianise e della provincia di Caserta e questo ha consentito di andare a individuare il numero di aziende in possesso di autorizzazione AVA pari a 121 con titoli autorizzativi uno o più titoli autorizzativi tra autorizzazione a riscarice autorizzazione emissione in atmosfera comunicazione in materia di rifiuti o comunicazione di impatto avistico cosa è stato fatto per queste aziende ispirandosi al lavoro portato avanti dall'Emilia Romagna sono state individuate le categorie Ateco e sono state selezionate le macro categorie Ateco di ciascun impianto e prendendo come spunto la categorizzazione assegnata dall'Arco Emilia Romagna a quali categorie Ateco sono state assegnate dei valori di risco variabili da 0 a 5 in questa tabella sono riascunte sono sintetizzate e sintetizzata la numerosità delle Ava per le diverse macro categorie Ateco la maggior parte delle aziende sono attività manifatturiere e ci sono anche però 37 aziende che hanno una categoria compresa tra quelle di commerciali in grosso riparazioni autoveicoli e motocicli e 13 aziende sono aziende dove è sviluppata attività di gestione e rifiuti la tabella successiva dove praticamente i numeri sono molto piccoli scende in maggiore dettaglio il livello di categoria Ateco ora utilizzando come dicevo il lavoro della Pernica Romagna agli codici Ateco sono stati attribuiti dei punteggi che vanno al punteggio 1 legato ad un rischio più basso e al punteggio 5 che è il rischio più elevato quindi per perfezionare il punteggio da assegnare alla singola azienda è stato costruito un algoritmo che associa al valore punteggio Ateco anche un valore legato al singolo titolo autorizzativo presente andando a attribuire un valore 2 all'autorizzazione allo scarico all'inzione in atmosfera o un valore 1 alla comunicazione di rifiuti e comunicazione di impatto acustico andando così ad arrivare ad un range di punteggi che variano da un minimo di 3 a un massimo di 1 questa tabella rappresenta quanto finora detto sulla sinistra ci sono riportate le codifiche Ateco nella seconda colonna i punteggi sono quindi riportate l'assenza o presenza del singolo titolo autorizzativo e l'ultima colonna invece riporta il punteggio finale che deriva dall'applicazione dell'algoritmo l'applicazione sul nostro sistema di aziende è stata riportata in questa tabella dove appunto viene le aziende sono riportate sono identificate da un codice interno viene riportata la singola macro categoria il codice Ateco specifico di ciascuna azienda il codice Ateco di secondo livello il punteggio Ateco assegnato il punteggio IP simile assegnato dall'arca Emilia Romagna e quindi la presenza e assenza dei singoli titoli autorizzativi con il punteggio finale questo è un primo approccio un secondo approccio che è stato portato avanti è stato quello di applicare l'analisi di rischio sspc a questo pool di aziende attraverso l'elaborazione degli indicatori che fossero il più possibile simili a quelli utilizzati in campo Aia e così per quanto riguarda l'indicatore di impatto potenziale che in Aia è ben codificato è stato sostituito da questo indicatore legato alla singola attività ATECO per quanto riguarda l'impatto reale sono stati utilizzati indicatori corrispondenti a presenza o assenza di titolo autorizzativo mentre per quanto riguarda gli indicatori legati alla realtà territoriale è stato possibile riproporre gli stessi indicatori dell'Aia che sono informazioni che sono presenti in agenzia e lo sviluppo di questi indicatori ha portato all'applicazione di un template infatti questo è il format il template che poi viene processato nel software che genera poi attribuisce il singolo rischio al singolo valore di rischio alle aziende ho fatto un errore ok ok e i valori che ne sono derivati variano da un minimo di 2,24 massimo di 6,16 che corrisponde al rischio più elevato questo è l'output del software in cui vengono rappresentati e portati su grafico i valori di rischio attribuiti alle singole aziende ho tentato di confrontare gli indici valori generati e attribuiti dalle due metodologie dal metodo semplificato e l'SSPC e i valori sono abbastanza comparabili infatti in giallo sono evidenziate i valori le aziende con rischio più basso e in rosa le aziende invece questi due metodi hanno attribuito il valore più elevato di rischio ed infine il terzo step del lavoro che stiamo sviluppando è stato quello di verificare grazie questo al contributo del collega Gianluco Russo di verificare l'applicabilità delle check list sviluppate da Fiori Venezia Giulia alle nostre realtà il primo confronto il primo lavoro che è stato fatto è stato di andare a verificare l'utilizzabilità di tutte le voci presenti in check list e in effetti durante un controllo non tutte le voci previste dalla check list sono effettivamente utilizzate nelle nostre realtà per cui ai fini del calcolo si è tenuto conto delle voci evidenziate in verde effettivamente utilizzate quello che è stato fatto allora è stato di verificare l'applicazione delle check list in sei visite ispettive qui sono state ripostate le informazioni delle aziende ispezionate sono sei aziende di cui cinque sono aziende che presentano autorizzazione AVA un'azienda invece controllata a seguito di segnalazione della polizia giudiziaria era priva di autorizzazione AVA è stata applicata sono state applicate le check list e in quest'ultima slide a confronto parallelo sono stati anche calcolati i punteggi per le stesse aziende derivanti dall'applicazione delle altre due metodologie e da quello che è risultato è che l'azienda maggiormente non conforme alla seconda azienda qui l'applicazione della checklist più linea giuria dà un punteggio 6,50 se andata a pesare con le altre metodologie dà un punteggio invece più basso viceversa l'azienda più risposa la terza azienda con un punteggio meno 4,50 andava invece a essere pesata negativamente con le altre due metodologie ecco questi sono i risultati del lavoro di confronto che è stato fatto ad oggi sicuramente occorre approfondire il lavoro sulle checklist verificare l'adattabilità a un numero maggiore di realtà di aziende aumentando il numero delle verifiche ma anche è molto importante andare a sviluppare il lavoro di pesatura dell'indice potenziale da attribuire alle categorie aceco magari estendendo questo lavoro anche ad un appangere gli esperti ringrazio per l'attenzione finito la ringraziamo per la presentazione e invito la dottoressa Feledig a collegare webcam e microfono così da poter eccola qui la vedo buongiorno dottoressa buongiorno abbiamo anche il suo documento grazie eccoci le lascio la parola grazie intanto che si carica il documento perché evidentemente c'è qualche tempo eccolo qui è arrivato un tempo di retention io faccio i miei più sinceri complimenti alle relatrici e ai relatori per il successo che sta avendo questo progetto che è un progetto ancora in progress non a caso nel mio brevissimo intervento titolo proprio il successo dei progetti è nella forza delle relazioni e quindi relazioni ne abbiamo viste veramente tante meravigliose io vengo particolarmente sono della regione Friuli Venezia Giulia e sono un'osservatrice del progetto quindi non ho dati da presentarvi o particolari informazioni da dare ma in quanto un'osservatrice fin da quando è nato intravedo in questo progetto almeno tre relazioni che in qualche modo lo guidano ne guidano diciamo così lo svolgimento e l'esecuzione la prima relazione è quella tra iniziativa economica ed ambiente e qui mi soccorre in qualche modo la costituzione la modifica costituzionale che è stata fatta nel febbraio di quest'anno agli articoli 941 della costituzione per l'appunto mi interessa in particolare sottolineare la modifica sull'articolo 41 e la relazione che c'è tra iniziativa economica ed ambiente a seguito di questa modifica l'ambiente o meglio la tutela dell'ambiente è assurda a dignità costituzionale piena non era così questo che cosa significa che l'iniziativa economica privata che è libera non deve soltanto essere svolta non in contrasto con l'utilità sociale con la sicurezza la libertà e la dignità umana ma anche non deve essere in contrasto con la salute con l'ambiente e questa asserzione costituzionale mi sembra particolarmente importante in un momento in cui abbiamo bisogno di consapevolezza della necessità di proteggerlo l'ambiente circostante l'ambiente naturale oggi siamo più consapevoli dei disastri ambientali che sono generati dalle attività antropiche degli ultimi 120 anni e quindi in questo scenario di consapevolezza la potenza autorizzatoria preventiva ma anche il controllo ex post diventano veramente fondamentali considerato che il collasso climatico non ha confini geografici quindi non possiamo fermarlo e anche se è vero che l'inquinamento ambientale potenziale che si produce magari nella singola regione ha un significato può avere un significato solo per un territorio piccolo però è evidente che è una goccia nel mare dell'inquinamento mondiale e dobbiamo fare la nostra parte per fermarlo e quindi per sensibilizzare le imprese sensibilizzare l'iniziativa economica privata a non arretare danno all'ambiente questa è la prima relazione la seconda che intravedo nel progetto è quella tra le istituzioni che ci hanno ben rappresentato il collegamento tra di loro su questo progetto comune e qui prendo a prestito questa frase di Consuelo Casula che è una psicologa psicoterapeuta filosofa la quale in un recente convegno ci ha detto il successo per me è voce del verbo succedere quello che io faccio succedere e qui queste persone hanno raccontato che stanno facendo succedere qualcosa che cosa stanno mettendo in condivisione più soluzioni per la categorizzazione del rischio si stanno confrontando hanno creato sotto l'alta sorveglianza di Ox questo bellissimo gruppo di lavoro questo progetto che è un progetto durevole abbiamo visto finirà nel 2023 e l'hanno fatto assieme quindi vedo un progetto di assoluto successo in questa relazione tra le istituzioni su progetti comuni una terza ed ultima relazione che a mio avviso guida questo progetto l'ho sintetizzata nel proverbio fatti chiari amicizia lunga e della relazione tra privati e pubblica amministrazione a mio avviso progetti come questo accorciano la distanza tra il settore pubblico e il mondo privato perché sono operazioni di trasparenza amministrativa le colleghe e i colleghi ci hanno dimostrato che stanno cercando di fare chiarezza nelle regole cui la funzione di controllo deve attenersi ma anche fare chiarezza quindi non solo sul comportamento diciamo così e sulla metodologia che in fase ispettiva si deve tenere ma anche chiarezza sul ruolo che l'imprenditore nel fare attività economica deve avere a protezione dell'ambiente quindi la consapevolezza per l'impresa di essere che sia necessario diciamo così operare sì facendo business ma comunque sempre a protezione del bene costituzionalmente ora tutelato che è l'ambiente naturale provando però nel settore pubblico ed ecco perché fatti chiari amicizia lunga un atteggiamento di collaborazione e anche direi un atteggiamento ispirato dall'accompagnamento piuttosto che dal solo profilo sanzionatorio il quale difficilmente può costituire un vero insegnamento e può costituire crescita culturale per l'impresa per l'impresa che fa business ma che deve appunto entrare nell'ottica di tutela di questo bene importante che è l'ambiente naturale mi fermo qui io devo ringrazio tutte le istituzioni collaboranti continuiamo a realizzare a realizzare progetti fondati sulle buone relazioni tra pubbliche amministrazioni e attendiamo anche io personalmente con ansia di seguire il webinar del 2 dicembre per completare la carrellata di esperienze sulle buone pratiche condivise grazie grazie a lei mi pare che l'intervento della dottoressa Feretig chiuda magnificamente questa giornata c'è una domanda che era stata posta per la dottoressa Filazzola che invito a questo punto a ricollegarsi eccola la trova nel box e domande c'è una domanda che era stata posta si lo letta se per le aziende è possibile attribuire un duplice codice a teco come si fa a valutare il punteggio si può utilizzare la soluzione che applica l'SFPC per i codici delle AIA dove lì dove ci sono più codici il punteggio viene aumentato di un valore pari 0,5 quindi si può ipotizzare lì dove ci sono più codici a teco di aumentare di un valore che deve essere predefinito il punteggio finale grazie mille e chiedo anche agli altri relatori se vogliono aggiungere qualcosa e chiedo ai partecipanti se in questi pochi minuti rimanenti vogliono hanno ancora qualche minuto appunto per porre domande ai relatori vedo il dottor Amigoni io solo per ringraziare tutti per ringraziare Formez e tutti i partecipanti numerosi e per invitare al secondo e conclusivo appuntamento del 2 di dicembre dove gli aspetti tecnologici di data science e anche alcune cose veramente innovative verranno presentate sui temi di oggi grazie mille grazie e allora io sottolineo l'appuntamento del 2 dicembre che vi è stato dato dal dottor Amigoni ringrazio i numerosi partecipanti posso dire una cosa io posso dire una cosa io certo scusate prima che ci lasciamo sono state presentate molte cose qui molte soluzioni molte proposte che sono ancora in corso di sviluppo in genere da parte nostra sicuramente quindi sarebbe bene che i partecipanti che avessero un momentino delle curiosità in merito anche ci contattassero ecco noi li abbiamo lasciati io mi ho lasciato il nostro lecapito sentiamoci ecco grazie grazie a lei oltre ai recapiti che si trovate sulle slide mi ricordo che le slide verranno poi pubblicate insieme alla registrazione ma oltre ai riferimenti che trovate sulle slide mi ricordo che avete sempre l'indirizzo di posta di delivery quindi la posta del progetto deliveryunit chiocciolaformets punto it e se avete poi anche sollecitazioni da girare ai relatori e poi provvederemo noi ad inoltrarle io vi auguro buona giornata vi ho già ricordato che avrete registrazione slide e per le presenze vi verranno attestate nei prossimi giorni nei primi giorni della prossima settimana e contestualmente riceverete una comunicazione dal sistema che vi inviterà a compilare il questionario di gradimento per poter così scaricare l'attestato di iscrizione al webinar ringrazio tutti e auguro a tutti un buon proseguimento di giornata